buongiorno ragazzi buongiorno a tutto il gruppo ecco io volevo far vedere i lavori che ho fatto in questi giorni di pioggia ho installato questa batteria agm che tra le migliori che sono in commercio la green power 100 100 ampere e niente vi volevo far vedere un attimo come l'ho installato ho installato sia la batteria servizi per più grande per aumentare l'autonomia della caravan quando siamo in libera e il suo caricatore 220 sempre nds tutto marca nds niente ho lasciato il trasformatore originale e il salvavita originale tutto ho connesso lì con quel connettore l'impianto ho implementato l'impianto della batteria servizi che posso scollegare in qualsiasi momento e la bella caravan ritorna con il suo impianto originale o pre già predisposto la tutto l'impianto per raccogliere il pannello fotovoltaico e adesso vi faccio vedere un attimo il funzionamento allora ho messo questo fusibile riarmabile che mi fa da interruttore in questo modo io attivo e disattivo l'impianto della batteria servizi allora ho già acceso la centralina per fare in modo questo è l'interruttore generale queste sono le luci della cucina le ho attivate adesso vi faccio vedere con l'interruttore che ho messo il funzionamento della batteria servizi ecco qua luce attiva della batteria servizi luci disattive faccio vedere attraverso questo interruttore fusibile da 30 ampere fa entrambe le cose stessa cosa ho messo un altro fusibile riarmabile questo qui adesso vediamo se focalizza bene ok questo qua questi due cavi vengono dalla presa 13 voli della della caravan che si allaccia alla macchina il gancio traino dell'auto e quindi la caravan era già predisposta per l'utilizzo di tutti i servizi elettrici interni attraverso la presa 13 poli che io ho disattivato per non per non ciucciare la batteria dell'auto ok quindi utilizzando la batteria servizi interna poi disattivando questo e attivando questo qui con il salvavita acceso abbiamo la luna 220 ok quindi abbiamo sia la 220 sia la 12 volt dell'auto sia la 12 volt della batteria servizi impianto pronto per accogliere il pannello fotovoltaico che vi farò un video apposito perché un pannello particolare flessibile e con pesi ridotti però un'efficienza ottima e niente visto che c'era ho cambiato anche la pompa dell'acqua l'ho messa nuova questa qui nella va direttamente nella scatola dei 12 volt sono due cavi facilissimo da installare poi se volete vi faccio vedere come si fa e niente vi voglio far vedere un attimo adesso siamo a 220 stacco questo riattivo la batteria servizi e siamo libera che ragazzi ecco qua un lavoro semplice e pulito funzionale ok per qualsiasi informazione sono a disposizione scrivetevi sul gruppo caravan autonome libera facebook sul canale youtube e tutti gli altri sociali instagram eccetera va bene ragazzi e speriamo che questo tempo ci assista per per i prossimi giorni e per il raduno un abbraccio a tutti al prossimo video ciao